Benvenuti a Cine Indie. Indipendenza. Cosa significa indipendenza? Un film è definito indipendente se è prodotto senza l'intervento di una grande casa di produzione, ad esempio una delle Majors di Hollywood, ovvero non pende dalle labbra e dalle decisioni di una grande e potente mamma chioccia. Con la farina, l'ascolta di farina e di sigarette, perciò saprò prendere dieci giorni. Penso. Mi è piaciuto tantissimo il documentario. L'ho trovato, ma intanto l'ho trovato di un po' etico. Credo che l'indipendente possa, anzi debba essere uno dei punti su cui questo paese deve puntare per riprendersi un po' al cinema. Indubbiamente questa definizione si adatta perfettamente a un ambito che è una delle tre sezioni su cui abbiamo diviso questa rossina. Un ambito specifico, quello del videoclip. Io sento che entrare in un sistema è più che altro una necessità che credo mi permetterebbe di farne a tutti gli effetti, di fare di questo lavoro il mio lavoro, perché finché si continua a lavorare in modo così indipendente, sì è bello, ma insomma è difficile. La storia corta, breve, però incisa, bello. Anche il video è qui, molto bello. Complimenti. La serata del cine indie è una grande opportunità per Padova, ma potrebbe esserlo per molti altri luoghi, in quanto viene sponsorizzato appunto il cinema indipendente che ha bisogno di essere sostenuto ed è molto prezioso. L'indipendenza sta nel dubbio, che però nel dubbio c'è la coscienza e nella coscienza la spiritualità e nella spiritualità l'indipendenza. L'indipendenza.